Libro IV Incominciano i consigli devoti per la Santa Comunione Parola di Cristo Venite a me tutti, voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò, dice il Signore. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà dato per voi. Fate questo in memoria di me. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, ed io in lui. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Con quanta venerazione si debba accogliere Cristo. O Cristo, verità eterna, sono queste parole Tue, anche se non pronunciate in un solo momento, né scritte in un sol punto. E poiché sono parole Tue, veritiere, esse devono essere accolte tutte da me, con gratitudine e con fede. Sono parole Tue, pronunciate da Te, ma sono anche mie, giacché le hai proferite per la mia salvezza. E dalla Tua bocca le prendo con gioia, per farle penetrare più profondamente nel mio cuore. Parole di così grande misericordia, piene di dolcezza e di amore, mi sollevano. Ma mi atterriscono i miei peccati, e la mia coscienza, non pura, mi impedisce di ricevere sì grandi misteri. La dolcezza delle Tue parole mi spinge, ma poi mi attarda il cumulo dei miei difetti. Tu mi comandi di accostarmi a Te con fiducia, se voglio stare intimamente in Te. Tu mi comandi di ricevere il cibo dell'immortalità, se voglio conquistare la vita eterna e la gloria. Venite tutti a me, dici, voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Dolce all'orecchio del peccatore e piena di intimità questa parola, una parola con la quale Tu, o Signore, Dio mio, inviti me, misero e povero, alla comunione del Tuo corpo Santissimo. Ma chi sono io, o Signore, per credermi degno di accostarmi a Te? Gli immensi cieli non Ti contengono e Tu dici, venite a me tutti. Che cosa vuol dire una degnazione così misericordiosa, un invito così pieno d'amicizia? Come oserò venire io, che so bene di non avere nulla di buono, per cui possa credermene degno? Come ti farò entrare nella mia casa, io che molte volte ho offeso il Tuo volto tanto benigno? Gli angeli e gli arcangeli Ti venerano, Ti temono i santi e i beati, e Tu dici, venite tutti a me. Se non fossi Tu a dirlo, Signore, chi lo crederebbe? E se non fossi Tu a comandarlo, chi avrebbe il coraggio di avvicinarsi? Ecco, Noè, uomo giusto, lavorò cent'anni nella costruzione dell'arca per trovare salvezza con pochi suoi. E come potrò io, solo in un'ora, prepararmi a ricevere con religioso timore il costruttore del mondo? Mosè, il servo Tuo grande e a Te particolarmente caro, fece un'arca con legni non soggetti a marcire e la rivestì d'oro purissimo per riporvi le tavole della legge. Ed io, putri da creatura, oserò ricevere con tanta leggerezza Te, autore della legge e datore della vita? Salomone, il sapientissimo re d'Israele, costruì con un lavoro di sette anni un tempio grandioso all'ode del Tuo nome. Ne cerebrò la dedicazione con una festa di otto giorni e con l'offerta di mille vittime pacifiche e collocò solennemente tra gioiosi suoni di tromba l'arca dell'alleanza nel luogo per essa predisposto. E come ti introdurrò nella mia casa io, infelice, il più miserabile tra gli uomini, io che a stento riesco a passare devotamente una mezz'ora e fosse almeno una volta una mezz'oretta passata come si deve. Oh mio Dio, quanto si sforzarono di fare costoro per piacerti. Ahimè, com'è poco quello che faccio io. Com'è breve il tempo che impiego quando mi preparo a comunicarmi. Raramente tutto raccolto. Ancor più raramente libero da ogni distrazione. Mentre alla presenza salvatrice della Tua essenza divina non dovrebbe di certo affacciarsi alcun pensiero non degno di Te. Ed io non dovrei lasciarmi prendere da alcuna creatura già che sto per ricevere nella mia casa non un angelo ma il Signore degli angeli. Eppure c'è un abisso tra l'arca dell'alleanza con le cose sante che custodisce e il corpo tuo purissimo con la sua forza indicibile. Tra i sacrifici legali di allora immagine dei sacrifici futuri è il tuo corpo, vittima vera che porta a compimento tutti gli antichi sacrifici. Perché dunque non mi infiammo di più alla Tua adorabile presenza? Perché non mi preparo con cura più grande a nutrirmi della Tua santità quando quei santi dell'Antico Testamento patriarchi e profeti e anche re e principi in unione con tutto il popolo dimostrarono un così grande slancio devoto verso il culto divino? Danzò il piissimo re Davide con tutte le sue forze la danza sacra dinanzi all'arca di Dio riandando col pensiero alle prove d'amore date in passato da Dio ai patriarchi. Apprestò strumenti vari compose salmi e li fece cantare in letizia e più volte cantò lui stesso sulla cetra mosso dalla grazia dello Spirito Santo. istruì il popolo di Israele a lodare il Dio con tutto il cuore a benedire ed esaltare ogni giorno il nome di Dio d'una sola voce. Se allora si viveva in così grande devozione se di quel tempo restò il ricordo delle lodi date a Dio davanti all'arca dell'alleanza quanta venerazione e quanta devozione devono essere ora in me e in tutto il popolo cristiano di fronte al sacramento e nell'atto di nutrirsi del corpo di Cristo cosa più di ogni altra sublime. Corrono molti fino a luoghi lontani per vedere le reliquie dei Santi e stanno a bocca aperta a sentire le cose straordinarie compiute dei Santi stessi. Ammirano le grandi chiese osservano e baciano le sacre ossa a volte in sete in tessute d'oro mentre qui accanto a me sull'altare ci sei tu mio Dio il Santo dei Santi il Creatore degli uomini e il Signore degli Angeli. Spesso è la curiosità umana che spinge a quelle visite un desiderio di cose nuove non mai viste ma se ne riporta scarso frutto di miglioramento interiore specialmente quando il peregrinare è così superficiale privo di ogni vera contrizione mentre qui nel sacramento dell'altare sei interamente presente tu mio Dio uomo Cristo Gesù qui si riceve frutto abbondante di salvezza eterna ogni volta che ti si accoglie degnamente e con devozione non una qualunque superficialità né la smania curiosa di vedere con i propri occhi ci porta a questo sacramento ma una fede sicura una pia speranza un sincero amore oh Dio invisibile creatore del mondo com'è mirabile quello che tu fai con noi com'è soave e misericordioso quello che concedi ai tuoi eletti ai quali offri te stesso come cibo nel sacramento sacramento che oltrepassa ogni nostra comprensione trascina in modo del tutto particolare il cuore delle persone devote e infiamma il loro amore anche coloro che ti seguono con più fedeltà coloro che regolano tutta la loro vita al fine del perfezionamento spirituale ricevono spesso da questo eccelso sacramento aumento di grazia nella devozione e nell'amore della virtù mirabile e nascosta questa grazia del sacramento che soltanto i seguaci di Cristo conoscono mentre non la sentono coloro che non hanno la fede e sono asserviti al peccato in questo sacramento è data la grazia spirituale è restaurata nell'anima la virtù perduta e torna l'innocenza che era stata deturpata dal peccato tanto grande è talora questa grazia che per la pienezza della devozione conferita non soltanto lo spirito ma anche il fragile corpo sente che gli sono state date forze maggiori rammarichiamoci altamente e lamentiamo la nostra tiepidezza e negligenza poiché non siamo tratti da un ardore più grande a ricevere Cristo nel quale consiste tutta la speranza e il merito della salvezza è Lui infatti la nostra santificazione e la nostra redenzione è Lui il conforto di noi che siamo in cammino è Lui l'eterna gioia dei santi rammarichiamoci dunque altamente che tanta gente si renda così poco conto di questo mistero di salvezza letizia del cielo e fondamento di tutto il mondo cecità e durezza del cuore umano non curarsi maggiormente di un dono così grande o godendone tutti i giorni finire persino col non badarvi se questo sacramento santissimo si celebrasse soltanto in un certo luogo e fosse consacrato da un solo sacerdote in tutto il mondo pensa da quale desiderio sarebbero tutti presi di andare a quel luogo a quel sacerdote per veder celebrare i divini misteri ma ecco i sacerdoti sono moltissimi e Cristo viene immolato in molti luoghi e così quanto più è diffusa nel mondo la sacra comunione tanto più è manifesta la grazia e la carità di Dio verso l'uomo che tu sia ringraziato o Gesù buono pastore eterno che con il tuo corpo prezioso e con il tuo sangue ti sei degnato di ristorare noi poveri ed esuli invitandoci a ricevere questi misteri con queste parole uscite dalla tua stessa bocca venite tutti a me voi che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò